La composizione paganiniana che conclude il primo dei concerti della stagione da camera di primavera di Radio 1 è il quartetto in La minore numero 15 per violino, viola, violoncello e chitarra. Si tratta dell'ultimo dei 15 quartetti per archi e chitarra composti dal musicista genovese dal 1818 al 1820. I tempi sono Maestoso, Minuetto, Adagio Cantabile, Rondò, violino Margaret Bacher, viola Salvatore Accardo, violoncello Rocco Filippini, chitarra Mario Gangi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.